Abbiamo presentato la 3 miglia d'oro che è una gara non competitiva che si svolgerà domenica 16 dicembre all'Alea di Novara e prevede due tipi di gare, una gara ridotta per chi si vuole cementare ma senza troppo sforzo, chi non è un agonista e sarà una gara di un miglio e poi ci sono i veri 3 miglia che sarà sempre nell'interno dell'Alea una gara non competitiva, costo 6 euro e sarà poi divisa per categorie maschile e femminili, juniores e signores. E' un'altra delle tante iniziative podistiche di una città che è molto attenta a questo sport e che dà sempre grandi risultati.